Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione di Sport Today che si apre parlando in particolare di calcio e gli impegni del weekend. Partiamo dalla Lega Pro Ascoli impegnato contro il Sant'Arcangelo domani nel turno di campionato. L'Ancona invece è impegnata a giocare nella trasferta contro Pisa, tutto questo sempre domani ma in vista dell'appuntamento di domani dell'Ascoli contro il Sant'Arcangelo sentiamo il mister Ascolano Mario Petrone che ci fa il punto in vista del prossimo impegno bianconero. Siamo concentrati a quello che è domani un evento importante e proprio per questo ci sono tutti gli stimoli, tutte le motivazioni, tutti i presupposti per portare a casa una partita che ha un valore un po' speciale. I ragazzi lo sanno, abbiamo preparato bene la settimana, abbiamo visto l'avversario, l'abbiamo studiato però vi dico la verità molto dipende solo da come si va in campo e con la mentalità da capolista, ripeto, con le tre caratteristiche che vi ho detto. Il Sant'Arcangelo non ha demilitato contro il Gubbio però è una squadra che ha evidenti problemi soprattutto in trasferta, nessuna vittoria, solo 4 Parigi. Non ci dobbiamo fidare assolutamente della statistica perché purtroppo proprio per questo motivo qua ho letto un po' di interviste e giustamente hanno nulla da perdere proprio quando si affondano queste squadre qua. Il rischio c'è, tra l'altro è una squadra che l'ho vista due o tre volte e non hanno mai demeritato e tutte le volte che stanno in vantaggio hanno sempre avuto la palla per pareggiare, compreso l'ultima col Gubbio e comunque anche a Grosseto non meritavano l'1-0, hanno preso un gol su una ribattuta, un mezzo fuorigioco che tra l'altro non c'era. Quindi insomma è una squadra viva che ci può mettere in difficoltà in qualsiasi momento, però ripeto quello che voglio vedere domani è l'atteggiamento della nostra squadra e la consapevolezza che siamo più in classifica e dobbiamo ragionare con la massima umiltà e determinazione se vogliamo ottenere questo obiettivo fino alla fine. Così Mario Petrone in vista dell'impegno contro il Sant'Arcangelo per quanto riguarda l'Ascol. Intanto passiamo dalla Lega Pro alla Serie D, questi gli impegni che vedono direttamente coinvolte le marchigiane. Nella quindicesima giornata di Serie D, Girone F, spiccano Castelfidardo-Recanatese, i derby Fermana-Civita-Novese, Iesina contro Lami-Ternina, Maceratese-San-Benedettese e la Matelica contro l'Olimpio-Agnonese, poi un altro derby tutto pesarese tra Vis-Pesaro e Fano. Intanto prima di passare all'eccellenza facciamo il punto nel prossimo servizio firma Andrea Fiano. Quattro candidate per un posto in paradiso, le Marche comandano in Serie D, Maceratese-Civita-Novese-Fano e San Benedettese, eccole le regine in rigoroso ordine di posizione di classifica. Il Girone F è un affare tutto riconducibile al nostro territorio, blasone delle piazze e squadre ambiziose, questi i due fattori che hanno spinto così in alto le big del torneo. A Latere va tenuto conto del fatto che probabilmente quest'anno manca qualche avversaria da zone confinanti, come il Termoli, decaduto all'ultimo posto, o il Campobasso alla ricerca della continuità, come il Chieti. Storicamente poi il Girone F è di stampo marchigiano con partecipazioni variabili tra le 6 e le 10 squadre nello stesso anno, come questo. Il 2014-2015 è quasi record, Maceratese-Civita-Novese-Fano, Samb, Matelica, Vis-Pesaro, Fermana, Iesina, Castelfidardo e Recanatese. Ma torniamo a chi sta facendo la voce grossa, la maceratese capolista senza aver ancora perso, la presidente Tardella sogna in grande, Rosa Forte e in mano a un allenatore pratico della categoria come Peppe Maggi. Insegue la Civita-Novese della Digi-Bresciani, abituata a partenze lanciate. Stavolta conta soprattutto sul suo tridente di livello, Degano, Modeo e Pintori garantiscono gol a Raffica. Come Sivilla, uomo di punta del rinnovato Fano che vuole assolutamente cancellare la deludente stagione scorsa. Quindi c'è la Samb che ha cambiato allenatore via Mosconi, ecco Paolucci, ma che come sempre fa perno sul sostegno di una tifoseria caldissima e appassionata che ha festeggiato recenti promozioni salvo ritrovarsi di fronte al dramma sportivo del fallimento. I patron Moneti e Bucci lavorano per garantire un futuro rosso-blu. A proposito, nel prossimo fine settimana Civita-Novese e Fano saranno spettatori interessatissimi del big match tra Maceratese e San Benedettese. Derby d'alta classifica perché, per fortuna, in cima ci sono le Marche, con a portata di mano la Lega Pro e la possibilità di vestire di professionismo un altro club. Chiudiamo la carrellata del calcio con l'eccellenza. Queste le prossime gare per quanto riguarda il campionato marchigiano. Atletico Alma, Vismara, Corridonia, Fossombrone, Folgore contro Tolentino, Grottamare, Atletico Gallo, Monticelli, Urbani, Porto d'Ascoli, Biagio Nazaro, Porto, Recanati, Vigor, Senigaglia, Trodica, Montegiorgio. Lasciamo il calcio e passiamo invece alla basket, gli impegni del weekend. Li vediamo partire innanzitutto dalla Consult Invest Pesaro, impegnata tutto questo il 14 domenica a partire dalle 18.15 in trasferta contro la Vanoli Cremona. Per quanto riguarda invece la Fileni Iesi in serie a gold e questi altri impegni si gioca a lunedì a partire dalle 20.00, Fileni Iesi che ospita la Givova Napoli. Dalla basket al volley, gli impegni per quanto riguarda la Lube. Sentiamo Giulio Sabbi in vista del big match di domani contro Perugia. Perugia è una squadra ben quadrata che verrà qui sicuramente per fare il risultato. Noi dovremo essere bravi a contrastarli sin da subito perché fanno dell'attacco uno dei loro punti di forza. Sappiamo che hanno un posto molto fisico, molto potente, quindi dovremo essere bravi comunque a limitarli, soprattutto in quello. Poi dovremo essere noi consapevoli delle nostre potenzialità e migliorare dopo le ultime partite dove comunque, soprattutto in Champions, non abbiamo espresso il massimo del nostro potenziale. Presenteci questo dicembre della cucina Lube Banca Marche. No, sarà sicuramente un dicembre di fuoco. Ci aspetta un bel mese dove dovremo far fronte sicuramente a delle difficoltà per quelle che incontreremo perché sicuramente incontriamo delle squadre molto forti. Dopo Perugia andiamo subito a Belgorod dove dovremo sicuramente giocare meglio rispetto alla partita che abbiamo giocato qui in casa e per provare a portare via dei punti importanti in chiave qualificazioni. Poi in mezzo ci sono le sfide con Latina e Molfetta che sono comunque, il campionato italiano è un campionato molto equilibrato e anche da quelle partite sono molto importanti per il proseguo del campionato. Dal volle di A1 maschile a quello di A2, sempre maschile gli impegni, in questo caso della Bichem Potenza Picena impegnata domenica in trasferta contro Vibo Valencia. Nella femminile di A1 spicca Robert Iboni Volley Urbino in trasferta contro il Bisonte Firenze. In A2 femminile Lardini Filottrano in trasferta contro Delta Informatica Trentino. E con il volle si chiude questa edizione di Sport Today. A voi grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. A presto. A presto.